Ciao ragazze, sono Samuna. Adesso vi mostro la seconda parte del balletto. Il braccio alto e giallo indica il braccio sinistro, quello nero il braccio destro. Ci troviamo in questa posizione e parte one thing. Subito facciamo un salto a gambe divaricate, abbassiamo il busto e lo alziamo verso destra. Passiamo e lo alziamo verso sinistra e facciamo un salto incrociando i piedi da destra avanti e ritorniamo con le gambe divaricate. Ripetiamo giù verso destra, di nuovo giù ce la alziamo a sinistra e questa volta riscendiamo e ce la alziamo verso destra chiudendo le gambe. Portiamo il braccio sinistro avanti con il pugno chiuso e quello destro che incrocia. ruotiamo all'indentro e portando la gamba sinistra fuori ci troviamo con le braccio in questo modo ed effettuiamo una rotazione del busto da sinistra verso destra per due volte. Portiamo la gamba sinistra avanti e il braccio destro al bacino e contiamo due tempi. Portiamo la gamba destra avanti, la sinistra sul bacino e contiamo altri due tempi. chiudiamo le gambe e portiamo i polsi ai fianchi e torniamo all'indietro. Arrivate qui facciamo ondeggiare le braccia in questo modo portando prima la destra avanti, sopra e poi la sinistra. Allora andiamo la gamba destra verso lì fuori e ci abbassiamo facendo questo movimento con le braccia. chiudiamo le gambe, di nuovo prima con la sinistra questa volta, poi con la destra. Portiamo la gamba sinistra fuori e facciamo questo movimento e ritorniamo con i piedi chiusi e il braccio lungo il corpo. Porta il mix, noi portiamo la gamba destra dietro e voltiamo la testa e richiudiamo le gambe. Porta Apple Knight, il primo movimento è un movimento solo di spalle, poi si salta verso destra, verso sinistra e a gambe divaricate. Portate la gamba destra avanti col braccio sinistro, sia la gamba sinistra che il braccio destro avanti incrociano. Poi quando la destra è indietro il braccio va fuori e la stessa cosa sinistra che raggiunge la gamba e il braccio sinistro che va lì fuori. Allargiamo la gamba sinistra, facciamo un battito giù come what makes you beautiful e apriamo verso destra e apriamo verso sinistra. Di nuovo un altro movimento di spalle, saltiamo verso sinistra, saltiamo verso destra e un salto a gambe divaricate. Questa volta portiamo prima la sinistra avanti, incrociamo con la destra, torniamo indietro con la sinistra, chiudiamo con la destra. Apriamo la gamba destra e battiamo giù, poi ci alziamo verso sinistra, ci alziamo verso destra, chiudiamo le gambe e portiamo la destra avanti con il braccio fuori e poi le portiamo in alto. Ci tiriamo verso di indietro, facciamo la stessa cosa, braccio fuori poi in alto, portiamo la gamba destra avanti, ripetiamo il movimento. L'ultima volta chiudiamo le gambe e lo rifacciamo, aprite con la destra, incrociate con la sinistra, riaprite con la destra e chiudete con la sinistra. Portate la gamba destra fuori, aprite le braccia, le portate in alto e fate un'onda. Chiudete, un altro movimento di spalle, di nuovo salto con la sinistra, salto con la destra, salto a gambe divaricate, incrociate con la sinistra, ripetete il tutto con la destra e girate portando la gamba destra in avanti. In questa posizione portate la destra indietro e battete sulle ginocchia due volte. Uscite fuori con la gamba sinistra e altri due battiti, portate un passo dietro con la destra, in avanti e battete le mani. Stessa cosa al contrario, passo con la sinistra, passo con la destra, portate la sinistra indietro e un battito in alto. Questa è a pornoite. In poi iniziate il mia lie. Ci troviamo in questo modo, le braccia vanno giù lentamente, si incrociano in avanti e portate il bacino in avanti per due volte. Portate prima il braccio destro in avanti, poi quello sinistro e alzate a fase alterne le spalle, poi vi bloccate e fate un movimento da un bacino per sinistra verso destra. Portate, incrociate con la gamba destra, poi la portate all'infuori, la incrociate dietro, la portate di nuovo in avanti e vi spingete verso sinistra. Poi, un passo avanti verso destra e vi girate di lato, uno verso sinistra e vi girate, uno verso destra, verso sinistra, verso sinistra, verso sinistra ancora, verso destra e chiudete. Aprite la gamba destra e mettete il bacio in questo modo, fate lo stesso con la sinistra e chiudete. Poi, fate un passo in diagonale all'indietro, un altro con la sinistra e un altro con la destra e poi ritornate indietro, cioè un altro con la sinistra, uno con la destra e uno con la sinistra. Quindi, ritorniamo con la sinistra, ci fermiamo a gambe divaricate per un tempo, ci abbassiamo verso sinistra e apriamo verso destra. Portate la mano destra dietro la testa. Aprite la gamba sinistra e fate questo movimento col braccio. Chiudete i piedi e inizia Stormy Heart. L'ho detto così, eh. Portate la destra avanti e alzate le braccia verso destra per due volte. La stessa cosa con la sinistra. Chiudete le gambe e portate la mano destra ai fianchi. La sinistra giù aperta in questo modo, poi portando la destra indietro, indietreggiate, allargate con la sinistra, portate la sinistra indietro e allargate con la destra. Poi, le braccia incrociate in alto in questo modo. Aspettate che inizia il ritornello e portando le braccia all'infuori, portate la gamba sinistra all'indietro e vi guardate la punta. Questo lo fate per due volte. Ripetete facendo il tutto con l'altra gamba. E abbassate le braccia piano piano. Portate prima avanti il braccio sinistro, poi destro e poi sinistro facendo un salto verso destra. Col braccio destro portato in avanti, verso l'esterno però, giungete i piedi, uscite con la sinistra e rigiungete di nuovo. Poi, portate la gamba sinistra avanti e con le braccia chiudete e poi ritornate sul posto. Stessa cosa, fate con l'altro braccio, chiudete, chiudete, passo in avanti, le braccia in questo modo e vi trovate qui. Portate la gamba destra in avanti e allargate le braccia in diagonale. Fate lo stesso con la sinistra, di nuovo con la destra, girate e alzate il braccio destro. Così finisce la canzone. Grazie.